Brucia un capannone adibito in parte a stalla e in parte a ricovero mezzi agricoli. Il rogo a Cittadella in via Postumia di Ponente, Salvi, 25 bovini. I pompieri arrivati da Bassano, Padova e Vicenza con 18 operatori e 5 mezzi antincendio sono riusciti a circoscrivere le fiamme dopo molte ore di lavoro, evitando il coinvolgimento del settore adibito a stalla. Il rogo ha interessato circa 200 metri quadri di superficie. Bruciati diversi mezzi, due trattori, un'auto, un escavatore, uno spaccalegna e 20 rottoballe di fieno e molte attrezzature. Salvati invece tutti i 25 bovini che si trovavano all'interno. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai, lo smassamento del materiale e la messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa 4 ore di lavoro.